Musica Indagini della Guardia di Finanza a Benevento sull'appalto del servizio di mensa per gli istituti scolastici e alcune strutture ASL nei pasti rimasugli e grassi di scarto sequestrati beni per oltre un milione di euro alla Ristorò. Contigui al clan Ferone avevano preso di mira un commerciante, 3.000 euro per il pizzo o tre arresti a Casavatore. La scoperta dei carabinieri in un deposito annesso ad abitazione di Sant'Angelo da Lifi arrestato per spaccio il 39enne Francesco Manca. Controlli dei carabinieri alla Sagra della Castagna di Montella, elevate denunce e patenti ritirate. In corte d'assise il caso della bimba volata giù dall'ottavo piano di un palazzone del Parco Verde a Caivano. In aula 28 testi per l'accusa. Rispetto al 2015 sono aumentate del 19% le truffe compiute ai danni di anziani. La polizia rilancia la campagna. Non siete soli, chiamateci sempre. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV. Lo abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni. Ammontano a oltre un milione e mezzo di euro i sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza di Benevento a carico della Ristorò. Nel mirino è finito un appalto del servizio di mensa per gli istituti scolastici, nonché di alcune strutture facenti capo all'asla di Benevento. La società utilizzava anche grassi di scarto e rimasugli vari per la confezione dei pasti. Sentiamo. Le denunce a mezzo stampa, gli appelli dei sindacati, la collaborazione di alcuni lavoratori. Spesso si è parlato della Ristorò, società con sede operativa nella zona industriale di Benevento e operante nel settore della ristorazione. La Ristorò che in passato si era giudicata. Gare di appalto indette dal comune di Benevento e dall'asla del capologo Sannita. Pasta acida, brodo pieno di olio e senza pasta, riso colloso e mozzarella già morse. Queste alcune delle testimonianze degli utenti raccolte dagli inquirenti. Testimonianze che hanno avvalorato l'accusa e hanno portato oggi a perquisizioni a un decreto di sequestro preventivo di oltre un milione di euro tra beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie. L'operazione è stata messa a segno dalle fiamme gialle di Benevento a seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica del capologo in merito proprio agli appalti del servizio di mensa per gli istituti scolastici cittadini nonché di alcune strutture facenti capo all'azienda sanitaria. Gli interventi sono stati eseguiti nei confronti di due persone Rossana Porcelli e Maria Rosaria Favino, Beneventane, gestore di fatto e amministratore della Ristorò. Alle due persone sono state contestate la frode in pubbliche forniture e la truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione in relazione a condotte illecite nell'erogazione del servizio. Secondo quanto si legge negli atti, la Guardia di Finanza avrebbe accertato un disegno criminoso finalizzato ad aumentare i guadagni di impresa a discapito della qualità dei pasti in tutte le fasi di esecuzione degli appalti violando palesemente le regole imposte dal capitolato contrattuale. I finanziari hanno fatto riferimento specifico anche a pasti surgelati, a pentole incrostate e perfino alla mancanza di detersivi per la pulizia delle stoviglie a volte sostituito da quello per i pavimenti. Un sistematico riciclo di cibo avanzato nelle scuole in certi casi cucinato, in largo anticipo già addentato e non consumato del tutto che in seguito veniva destinato per la preparazione dei pasti serali agli ospiti delle strutture sanitarie che in più occasioni avevano segnalato l'immangiabilità della pietanza rifiutandosi di consumarla. Il tutto era attuato nella totale non curanza che i destinatari del servizio reso fossero scolari in tenera età, anziani e malati psichiatrici e quindi categorie deboli non in grado di far valere le proprie ragioni e diritti. E nel corso delle indagini che hanno portato a Benevento l'operazione sul servizio mensa è emerso come spiega il procuratore della Repubblica Giovanni Conso che il tutto era nella totale non curanza che i destinatari del servizio come abbiamo ascoltato proprio dal nostro servizio di apertura reso fossero scolari in tenera età, anziani e malati e quindi categorie di soggetti deboli non in grado di far valere le proprie ragioni. Sentiamo. Sono state sequestrate sia delle autovetture che soprattutto delle quote societarie per soggetti economici ricadenti sia nella provincia di Benevento che nella provincia di Avellino. Sono truffe nello Stato e frode nelle pubbliche forniture e su questo è stato emesso per una somma di un milione di euro per l'equivalente di confondita amministratore di fatto e l'amministratore della società ufficiale che diforniva i pasti a queste strutture. Soprattutto per le persone più deboli che sono le vittime poi di questi reati che sono i poveri bambini che andavano a scuola, a scuole primarie e che consumavano questi cibi purtroppo del tutto in idonei e i pazienti delle asle ricoverati presso alcune strutture, anziani soprattutto. Il quadro è critico perché soprattutto è commesso da danni di vittime vulnerabili che non hanno la possibilità di difendersi e denunciare in quel momento i soprusi e gli abusi che subivano. Poi noi facciamo le nostre indagini che sono coperte dal segreto per adesso questo è il punto firmo che abbiamo accertato e che andava comunque bloccato perché non poteva continuare così. Venivano impiegati i materiali, soprattutto materie prime per il confazionamento dei pasti e materiali per la pulizia e quant'altro dell'impianto che non erano in regola col capitolato d'appalto. È stato il più anziano dei due cani ad ammazzare Pasquale Malafronte il 78enne floricoltore di Castellamare di Stabia morto a Battipaglia nei pressi delle serre dell'azienda di famiglia l'animale è un esemplare maschio di 7 anni circa in ottime condizioni generali avrebbe attaccato l'uomo dopo che questi gli avrebbe impedito di avvicinarsi ad un altro cane un meticcio di piccola taglia che la vittima aveva sul sedile passeggero del suo furgone il corpo dell'uomo era martoriato anche da altri morsi in particolare al braccio destro e alla regione frontale sinistra. Lo stalker questa volta è una donna 38 anni e non si era rassegnata alla fine di una storia perseguitando così per tre mesi l'ex dopo l'intervento dei carabinieri è stata arrestata a Sorrento le molestie andavano avanti da settembre in ripetute circostanze anche in strade alla presenza di familiari dell'ex. Contigui al clan Ferone avevano preso di mira un commerciante 3.000 euro per il pizzo tre arresti a Casavatore Il servizio Tre persone ritenute contigue al clan camorristico dei Ferone attivo nel controllo degli affari illeciti a Casavatore comuni a nord di Napoli sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a un negoziante si tratta del 28enne Antonio Ferone del 26enne Elpidio Patricelli e di Raffaele Cagliazza 51 anni tutti già noti alle forze dell'ordine ritenuti contigui al clan durante i servizi di controllo del territorio i militari hanno notato la presenza in un negozio dei tre soggetti fatto che ha portato all'avvio di approfonditi accertamenti i militari hanno così scoperto che a più riprese nello stesso giorno i tre si erano presentati dal commerciante intimandogli di consegnare subito al massimo entro la giornata 3.000 euro aggiungendo che solo il versamento dei soldi gli avrebbe consentito di continuare a lavorare con tranquillità il giudice delle indagini preliminari applicato ai tre la misura della custodia cautelare in carcere richieste di condanna pesantissime per i 32 imputati del processo Camorra Capitale che hanno scelto il rito ordinario con pene per i vertici della cosca che vanno dai 13 ai 30 anni di reclusione al vertice del clan il marchio di fabbrica della Camorra Irpina il clan Pagnozzi messa sotto accusa dalla procura antimafia di Roma per il volto più noto Pagnozzi Domenico soprannominato o professore che anche il capo assoluto del gruppo già condannato per Camorra sono stati chiesti 30 anni a fronte delle accuse di associazione mafiosa associazione dedita al narcotraffico plurimi episodi di riciclaggio e numerose estorsioni con un cric di un'auto aveva divelto l'inferriata protezione di una finestra al piano terra e si era introdotto nell'istituto tecnico industriale Augusto Righi in Viale Kennedy nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli la notte del 2 agosto una notte di effrazioni per entrare in ben 38 aule scastinare 38 cattedre impossessarsi di altrettanti computer uno per classe il ladro però è stato riconosciuto per alcuni problemi fisici all'autore del furto mancano infatti l'indice e il pollice della mano sinistra per qualche problema zoppica avvistosamente tanto da aver bisogno di camminare con una scarpa ed una pantofola 16 kg di cocaina per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro oltre ad alcune armi sono stati sequestrati dalla polizia a Napoli la droga era nascosta in una sottoscala in via testa nella periferia orientale di Napoli si tratta di un'area che è sotto il controllo del clan Formicola la scoperta dei carabinieri in un deposito annesso ad un'abitazione di Sant'Angelo D'Alife siamo in provincia di Caserta arrestato per spaccio il 39enne Francesco Manca sentiamo i dettagli la notizia si è diffusa in poche ore un'operazione legata allo spaccio di stupefacenti che ha portato a Sant'Angelo D'Alife all'arresto di un giovane al sequestro di una cospicua quantità di sostanza stupefacente droga suddivisa in 14 buste di cielo fanno termosaldate le dosi erano occultate all'interno di un magazzino un luogo che non è passato inosservato agli occhi dei carabinieri impegnati in servizi di controllo l'atteggiamento del ragazzo e l'esperienza degli uomini dell'arma hanno immediatamente dato i loro frutti effettivamente gli uomini guidati dal tenente Fabrizio Borghini hanno scoperto nascoste le dosi di droga inoltre hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione e del materiale utile per il confezionamento della marijuana un chilo e mezzo di sostanza stupefacente su cui gli investigatori stanno ancora indagando a chi era destinata quella droga e quanto avrebbe fruttato domande al vaglio degli inquirenti mentre Francesco Manca 39 anni è finito nei guai Controllo dei militari ma questa volta in Irpini alla Sagra della Castagna di Montella elevate denunce e patenti ritirate sentiamo La Sagra della Castagna ogni anno attira a Montella turisti anche dalle province e dalle regioni limitrofe così il comando provinciale dei carabinieri di Avellino ha preordinato proprio nel piccolo centro dell'Irpinia e lungo le arterie principali che portano in Alta Irpinia l'impiego di circa 40 militari per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica l'articolato dispositivo ha permesso di effettuare perquisizioni e controlli con il risultato di 5 persone denunciate in stato di libertà 2 patenti ritirate da alcuni sequestri un'auto droga e un coltello nonché una serie di contravvenzioni per violazione al codice della strada per un importo di alcune migliaia di euro in particolare nel corso di alcuni posti di controllo opportunamente predisposti i mirati servizi hanno permesso di deferire un 47enne ed un 34enne sorprese alla guida di veicoli il primo poco dopo aver assunto droga e il secondo dopo aver fatto abuso di alcolici ad entrambi oltre alla denuncia alla procura della Repubblica di Avellino è stata ritirata la patente di guida e sequestrate le auto che saranno confiscate un 18enne giunto a Montella da Foggia proprio per la Sagra ed un 34enne del posto invece all'esito di perquisizione sono stati trovati in possesso di hashish e di uno spinello già confezionato al loro carico è scattata la segnalazione alla prefettura di Avellino un 42enne inoltre è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico deferiti anche due ambulanti napoletani non essendo autorizzati a vendere all'interno del perimetro della Sagra entrambi con a carico precedenti di polizia sono stati proposti per l'emissione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio in corte ed assise il caso di Fortuna Loffredo la bimba volata giù dall'ottavo piano di un palazzone del Parco Verde di Caivano in aula 28 testi per l'accusa sentiamo non saranno riascoltate le due bambine testimoni di accusa al processo per l'omicidio della piccola Fortuna Loffredo la bimba di 6 anni precipitata dall'ottavo piano di un palazzo al Parco Verde di Caivano il 24 giugno 2014 lo ha deciso la quinta sezione della corte di assise di Napoli presieduta da Alfonso Barbarano che ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato dell'omicidio Raimondo Caputo detto Tatò la corte ha comunque precisato che le bambine le cui dichiarazioni vennero raccolte nell'ambito di un incidente probatorio potrebbero venire riascoltate qualora emergesse tale necessità all'esito dell'istruttoria dibattimentale la corte ha stabilito anche che non potranno essere effettuate riprese televisive e che verrà disposto il dibattimento a porte chiuse nelle udienze in cui saranno trattati i casi di abusi sessuali su minori i giudici hanno infine ammesso le liste di testimoni presentate dalle parti e hanno rinviato il processo al 16 novembre prossimo dove secondo quanto si è appreso verranno interrogati come testimoni alcuni investigatori che hanno svolto le indagini le udienze si terranno tutti mercoledì dopo mezzogiorno cambio al vertice presso il comando dei carabinieri di guardia sanframondi dopo 17 anni infatti il maresciallo Giuseppe Itzo lascia il borgo sennita per raggiungere il capoluogo dove avrà senza dubbio compiti di maggiore responsabilità esempio di dedizione impegno e lealtà legato anche emotivamente a guardia dove continuerà ad abitare ancora per alcuni mesi Itzo è stato sostituito dal maresciallo capo Carmine Antonio Nocera già vicecomandante presso la stazione dei carabinieri di Dugenta ed originario di Cusano Motri dove attualmente vive i vigili del fuoco di Benevento hanno incontrato l'arcivescovo Monsignor Raffelice Acrocca di Tullio ha dichiarato la sentiamo uno di noi il numero uno dei vigili del fuoco ha anche ricordato l'impegno in questo periodo di molti dei vigili del fuoco di Benevento nelle zone terremotate del centro Italia e la forte attenzione è rivolta anche al territorio sanita su cui pesa il rischio sismico rispetto al 2015 sono aumentate del 19% truffe compiute ai danni di anziani la polizia rilancia una campagna di sensibilizzazione vediamola insieme la maggior parte delle truffe agli anziani avviene tra le mura domestiche i truffatori si presentano curati e ben vestiti vi sorridono mostrandosi gentili e disponibili dopo essersi presentati quello che vi raccontano sembra credibile prima di far entrare degli sconosciuti in casa verificate con una telefonata crescono le truffe nei confronti delle persone anziane la polizia rileva che i casi registrati a livello nazionale sono aumentati del 19% nel primo semestre del 2016 rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente per questo la polizia raccomanda prudenza e rilancia la campagna di sensibilizzazione non siete soli chiamateci sempre negli spot della campagna vengono mostrate le truffe più ricorrenti come ad esempio quelle dei malfattori che spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine o per tecnici del gas riescono ad entrare in casa e a derubare l'anziano l'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini ad essere cauti quando alla porta si presenta uno sconosciuto il messaggio che viene lanciato è abbiate maggiore prudenza e chiamate la polizia le campagne di sensibilizzazione portate avanti dalla polizia in questi anni hanno contribuito a informare gli anziani riguardo ai raggiri di cui possono rimanere vittima e a dare loro la possibilità di sventare le truffe la cresciuta consapevolezza del fenomeno riferiscono gli agenti ha portato anche a un aumento delle denunce di questi reati riducendo il sommerso e rendendo possibili le azioni repressive non siete soli chiamateci sempre a 25 anni dalla nascita la Sun di Caserta cambia il suo nome e diventa Università degli Studi della Campania Luigi Vambitelli approvato dunque il nuovo statuto di Ateneo da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è pubblicato oggi in gazzetta ufficiale può dirsi definitivamente concluso l'iter per il cambio di denominazione il maltempo si sposta al sud lo riferisce la protezione civile che ha dunque emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli dei giorni scorsi l'avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale sulla Campania i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequenti attività elettrica e forti raffiche di vento dal pomeriggio di mercoledì si segnalano venti forti con raffiche di burrasca su Sardegna Sicilia e Calabria e dunque allerta arancione per anche la giornata di domani sui versanti terrenici della Calabria allerta gialla sui restanti settori della Calabria sul Molise sulla Campania sulla Basilicata e su gran parte dell'Umbria dell'Abruzzo e della Sicilia Siamo alla pagina Siamo alla pagina sportiva Calcio Serie A il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti in quel di Castelvolturno gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle nazionali Serie B il Benevento passa al libero liberati di Terni grazie ad un gol dell'ex Fabio Ceravolo 0 a 1 il risultato finale in grande difficoltà la Ternana soprattutto nel primo tempo quando subisce l'iniziativa di Campani con un Ciciretti in grande forma una prestazione positiva all'1 a 0 però ci sta stretto soddisfatto della gara mister Baroni che sentiamo insieme Tanti complimenti troppi complimenti forse qualcuno ha pensato che questo fosse un campionato facile invece questo è un campionato difficilissimo un campionato dove vincere non è facile e quindi noi siamo la seconda vittoria esterna è importante perché le mie squadre non hanno sempre fatto questo e dobbiamo ripeterci solo con questo tipo di atteggiamento con l'atteggiamento che c'è stato per 70 minuti di gara abbiamo avuto perlomeno 3-4 situazioni clamorose per far gol e abbiamo sbagliato perlomeno 6-7 situazioni dove non puoi andare a non fare il gol poi è normale che queste partite se le tieni in equilibrio cioè se le tieni così poi negli ultimi 5-10 minuti può succedere tutto tra l'altro avevo comunque in campo anche dei giocatori Fabio Ceravolo era arrivato un po' era arrivato Pezzi mi aveva chiesto il cambio gli ho chiesto di rimanere in campo Gianfi è la prima partita dove finisce 90 minuti è la seconda gara che fa in questa categoria insomma tante piccole defezioni però c'è stata una risposta di carattere di vigore e questo è importante e siamo ancora alla serie cadetta allenamenti a porte chiuse ed amichevole annullata a Lioni l'avellino di Domenico Toscano si blinda in vista della gara contro il Carpi l'obiettivo è ritrovare serenità per il proseguo della stagione stringendosi a cerchio intorno ad un gruppo che sta trovando numerose difficoltà inizia con una nuova settimana inizia una nuova settimana ed è già vigilia di partita mercoledì casertana in campo per la Coppa Italia di Lega Pro contro la Maceratese ed era questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e della nostra programmazione arrivederci e alla prossima edizione e la prossima notizia Previsioni per mercoledì 9 novembre 2016 Temporali sulle coste toscane, sarde e tirreniche meridionali Maestrale su tutti i mari Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it Al nord il cielo sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso Nevicate in Val d'Aosta anche a bassa quota Spostiamoci al centro Arrivano temporali sulle coste settentrionali della Toscana e occidentali della Sardegna Altrove il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso Ma con piogge in arrivo su Marche e Umbria Spostiamoci infine al sud Temporali sparsi sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria Altrove tempo più asciutto e anche soleggiato Come saranno invece i venti? Saranno di maestrale su gran parte dei bacini Concludiamo come di consueto con le temperature previste per questa giornata del 9 novembre Le minime risultano essere in ulteriore diminuzione Sotto zero al nord ovest di pochi gradi Sopra lo zero sul resto del nord e del centro Fino a 15 gradi al sud Di giorno prevediamo 5-13 gradi al nord 10-15 gradi al centro E non più di 18 gradi al sud Sotto zero al nord ovest di sicilia Sotto zero al nord ovest di sicilia